quella che vedete inquadrata è una semplice presa decorrente a quelli che domandano ma come si ricarica la macchina elettrica a parte la colonnina beh facile alla presa decorrente questa è grigia perché la macchina sostitutiva che mi hanno dato dato che la mia stai riparazione comunque sempre Icaro sempre elettrica così non inquiniamo e sempre Nandina che pascola ciao Nandì saluta un po il tempo oggi è particolarissimo se prevedono se prevedono temporali trombe d'aria vabbè vedremo tanto Nandina pure con la tromba d'aria è difficile che vola via speriamo che non volano via i pannelli speriamo che non volano via i paperi se volate via tutti voi altri sapiens la cosa non mi dispiace proprio non vi capisco più non riesco più a avere una comunicazione proprio nessun tipo di rapporto siete strani siete strani e è finito il tempo dei regali è finito il tempo delle caramelle adesso inizia la guerra anzi è iniziata la guerra è scoppiata la grandine è scoppiata l'alluvione è è scoppiata la tromba d'aria Nandina continua a mangiare bella e è qua saluta l'orto vuoi che non vuoi continua a crescere quel poco che si riesce a fare e nel frattempo i fichi d'india fortunatamente si stanno a madurare insieme con i fichi così tra un po' se li maniamo e nel frattempo la pompetta che sta qua sotto la pompetta a corrente continua che sta qua sotto che tra l'altro era un giocattolino ho pagato meno di 200 euro la bioeconomica che avevo trovato in America dall'America questa stessa pompetta adesso dopo meno di un anno si compra sempre su ebay non più a 200 euro ma a 950 euro e la gente continua a comprarseli suppongo che gli americani specialmente stiano un po' a tristar culo e si immaginano che succeda qualcosa e che sempre più gente si sta a creare il suo piccolo bunker perché una pompetta che lavora in corrente continua quindi con i pannelli solari e che pesca l'acqua a 60-70 metri indica pozzi e indica impianti elettrici scollegati dalla rete che ci fa piacere la stessa cosa che facciamo qua all'orto dio ne facciamo anche tante altre e niente i pochi che ci avranno la fortuna ancora di passare potranno potranno dare un'occhiata a tutti gli altri faccio da parte mia e un saluto da parte della mucca Nandina saluta Nandi saluta Nandi di ciao eccola qua la mucca mai sazia ciao belli ciao